Niso Fumagalli, è quello che ha fatto tutta questa roba, nel 64, Niso con la N, c'è scritto lì comunque, Niso Fumagalli, Roseto, chi prende male col sole, nel 62 aveva già fatto l'associazione italiana della rosa e poi ha fatto questa cosa qui nel parco e una volta all'anno, a maggio, c'è l'esposizione internazionale, cioè mandano delle varietà da tutto il mondo, adesso sono, ovviamente le rose sono appassite, un concorso internazionale sulla rosa più bella, più profumata, per 64 oggi ne sono passati di anni, e ogni anno ho messo una rosa, anche più di una, perché se devono esporle, poi ce ne sono alcune storiche qua, Grazie